Mancano pochi scampoli al via dei campionati dilettantistici ai ranghi di partenza in Valle Camonica. Anche il Darfo Buario che dopo un mercato contrassegnato dalle conferme da tre innesti di qualità nelle ultime ore ha ufficializzato anche l'acquisto di Gabriele Fanti, 22enne Terzino Camuno, lo scorso anno tra le file del Lumezzane. Una carta sorpresa che consentirà a mister Lucasana di affrontare l'ostico Girone C di eccellenza. Con una certezza in più i nero-verdi, parola del patron Walter Venturi, sono pronte a far valere le proprie ragioni e disputare un campionato di alto profilo. Ecco, di fatti, l'importante quest'anno, siccome sarà un campionato duro perché sono 18 squadre, è un campionato entusiasmante perché 18 squadre io le ho sempre preferite. Però ho visto che nel nostro Girone si sono tutti attrezzati, sarà una battaglia dura. Però, come dico ai miei colleghi, non è che noi vogliamo entrare in campo per perdere, vogliamo entrare in campo perché anche noi vogliamo vincere. Tutti vogliono vincere e il Darfo non è da meno. Abbiamo mantenuto l'ossatura centrale dell'anno scorso, inserendo parecchi giovani del settore giovanile del Darfo e di questo siamo contenti. Di fatti, i nostri giocatori, visto anche l'anno scorso, per esempio Randazzo, ha avuto questa richiesta dalla Pergolettese, sta lavorando con loro, gli auguro tanto bene e anche per il Darfo è una pubblicità perché facciano giocare i giovani e questo è merito anche dalla nostra società. Di vista siamo decisamente orgogliosi. Credo che la nostra sia l'unica o una delle poche società dove oltre tre quarti della rosa di eccellenza è composta da ragazzi cresciuti nel settore giovanile del Darfo. Quindi questo ci rende orgogliosi anche perché abbiamo investito, investiamo ed investiremo sempre nel settore giovanile per dare la soddisfazione anche ai ragazzi della Val Camonica di poter giocare in questo campionato o magari domani in un campionato anche migliore. Il Darfo farà il suo esordio in Coppa sabato 27 agosto alle 17 contro l'ospitaletto per altro futuro avversaria anche in occasione della prima di campionato del 4 settembre. Sì, come hai detto tu il girone si conferma sempre a tosto, quest'anno abbiamo anche la difficoltà di avere due squadre in più quindi più partite, settembre sarà un mese molto impegnativo. L'ossatura è rimasta, abbiamo sostituito qualche giocatore andato con altri che sicuramente faranno bene e siamo pronti per confermarci visto il buon ritorno dell'anno scorso speriamo di poterlo fare e di proseguire questa strada. Grazie Grazie Grazie